Il complesso termale Larita di Casamicciola Terme, già seriamente danneggiato dal terremoto del 21 agosto 2017, è crollato in gran parte nelle settimane scorse dopo giorni e giorni di intensa pioggia e maltempo, grazie alla sua sorgente termale straordinariamente curativa e che sgorga la temperatura di 90 gradi, ha da sempre rappresentato il punto di riferimento per personaggi del mondo della politica, della cultura, dello sport e dello spettacolo, anche perché è un luogo appartato, quasi lontano dal mondo e, per questo, garantisce agli ospiti una certa riservatezza e tra i frequentatori più illustri spiccano certamente su di tutti l'eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi ed il maestro Arturo Toscanini e grazie a Daniello Castagna, l'ultimo degli eredi della famiglia che ha realizzato questo complesso termale nel 1800, oggi facciamo un viaggio nella storia di questo luogo magico che tra le rovine e le macerie custodisce ancora racconti ed aneddoti di un tempo ormai andato, ma che continua a dare lustro a Casamiccio e all'intera isola d'Ischia. L'immaginario collettivo, però, è rimasto come presenza storica quella di Garibaldi e Toscanini. Garibaldi e Toscanini sono i più conosciuti. Toscanini la mattina veniva come tutti i clienti a fare l'agura, nelle terme vicine a noi, perché qua eravamo in cinque attività aperte e la mattina dopo l'agura lui era abituato a prendere il caffè e questo caffè c'era una signora che veniva da Furio, si chiamava Maddalena, e sposata con uno del luogo qua. La mattina gli offriva il caffè, prendeva il caffè e tornava a casa per il riposo. Una mattina la signora non gli funzionava questa caffettiera, era molto nervosa, all'improvviso prende questa caffettiera e la butta giù nel dirupo. Il signore Toscanini era tutto arrabbiato, disse, e adesso come faccio? Il caffè dove lo prendo? Allora l'ha presa quasi in braccia la signora, che lei era pure un po' piccolina, si spaventò talmente, dice adesso mi butto pure in mezzo nella valle. Poi insomma si calmò e poi la signora mi si è a posto questa situazione e me lo raccontò gli ultimi giorni della sua vita questa signora che purtroppo mi ha cresciuto pure, perché insomma si ricordava quando io venivo con mamma, perché io da piccolo mia madre già mi portava nelle terme. Garibaldi invece scelse questo luogo un po' per tutelare la sua brana? Sì, nella sua storia voleva stare più tranquillo e venne prima nella zona di Piazza Bagni, che lì sono molto famose le terme anche lì, non solo la Rita, però si trovò bene anche da noi, da questa zona. E nelle terme c'è ancora una vasca dove faceva il bagno lui. Garibaldi. Garibaldi. Pensate che Aniello Castagna è il titolare dell'unico lotto rimasto in piedi dello storico stabilimento termale Larita e spera in una rapida messa in sicurezza dello stabile e in una riapertura già per quest'anno. Nonostante il terremoto, nonostante i crolli, diciamo il lotto che appartiene a voi sperate di poterlo riaprire già queste strade? Certo, noi speriamo.